Grandi manovre in corso per costruire in fretta la squadra per il prossimo campionato e dimostrare con i fatti che il vento è cambiato davvero. Il Catania lavora a pieno ritmo non solo sul mercato, per adesso da questo punto di vista si sono registrati soprattutto gli incassi attesi dalla società. Jomber, Petkovic e Auger, riscattati da Roma, Trapani e Salernitana, hanno portato soldi freschi nelle casse del Catania Calcio, pronti adesso a investirli per costruire una grande squadra per il prossimo campionato. Chiuso l'accordo con il difensore serbo Stefan Giorgevic, aspettando i giovani romanisti Pettinari, Piscitelle e Anoncic, il DS Argurio ha avviato diversi contatti per mettere a punto l'ossatura della squadra attorno alla quale far nascere il nuovo gruppo. Il primo step però resta sempre la scelta dell'allenatore. Le piste aperte sono tante, c'è Carmine Gautieri che resterebbe la prima scelta, ma ci sono molte alternative in ballo, da Pino Rigoli a Gatano Uteri, passando per Roberto D'Aversa l'ultimo nome uscito in ordine di tempo. Entro domani intanto bisogna definire la questione stipendi di marzo, aprile e maggio. La società è serena, la sensazione è che la situazione si stia stabilizzando sotto tutti i punti di vista. Nei prossimi giorni in più in città dovrebbe arrivare Orge Vergara per una visita a Torre del Grifo che potrebbe anche servire a fare importanti passi avanti nella trattativa per la cessione del Club Etneo.